La cabina di regia ha analizzato i dati e il ministro Speranza ha deciso. L'Abruzzo resta in zona arancione anche per la prossima settimana. Metà Abruzzo, visto che rimane in vigore l'ordinanza regionale che pone le province di Chieti e Pescara in zona rossa. L'indice di contagiosità RT in Abruzzo è a 1,17. La zona rossa sarebbe scattata automaticamente al valore di 1,25. Non cambia nulla, noi continueremo a mantenere la zona rossa per le province di Chieti e Pescara, a continuare a fare uno stretto monitoraggio su tutto il territorio. Ho chiesto a tutte le AS di continuare praticamente quotidianamente a verificare l'andamento epidemiologico dei singoli territori, anche per rivalutare queste decisioni sull'opportunità o meno di inserire altri comuni in zona rossa se ci sono situazioni preoccupanti o viceversa se nelle province di Chieti e Pescara dopo una settimana di zona rossa generalizzata si possa cominciare a delimitare invece un'area meno pericolosa da restituire alla condizione arancione o comunque quella del resto della regione. Rimane però allarmante la pressione sugli ospedali. Oggi tre persone in più sono in terapia intensiva per un totale di 73 pazienti su 189 posti disponibili. Il tasso di occupazione sale quindi al 38,6%. 546 pazienti, meno 6 rispetto a ieri, sono invece ricoverati in area medica per un tasso di occupazione di pochi punti percentuali al di sotto della soglia di allarme del 40%. Oltre all'RT, forse in Abruzzo ha pesato per mantenere l'arancione proprio la decisione autonoma di porre metà regione in zona rossa. Degli odierni 494 nuovi casi di Covid, circa la metà sarebbero infatti nella provincia di Pescara dove a preoccupare la facilità con cui si diffonde la variante inglese. Dei 7.209 test processati nelle ultime ore tra antigenici e molecolari ha dato esito positivo quasi il 7%. Oggi 9 ulteriori morti, 5 dei quali riferiti a decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL che portano il bilancio delle vittime a quota 1.608. E considerando anche i 416 guariti delle ultime ore, attualmente in Abruzzo vi sono 12.377 positivi accertati, 69 in più rispetto a ieri, di cui è ospedalizzato circa il 6,5%. 10J 118 119 118 119 119 129 119 129 138 119 119 Grazie a tutti